Che giornata impegnativa, buongiorno anche da parte mia, vi voglio far rilassare, facciamo un viaggio insieme, un viaggio nelle eccellenze sanitarie della nostra regione, ritorniamo a dare uno sguardo, a vedere come vanno le cose a Villaricca in provincia di Napoli, centro cedime, in compagnia della dottoressa Germana Gallo, che lì è il direttore sanitario, ma è soprattutto un medico a tutto tondo, che si dedica alla sua professione con passione e soprattutto ai suoi pazienti, parliamo oggi di fiducia medico-paziente, vediamoci la clip. Siamo qui a Cedime di Villaricca in provincia di Napoli per parlare con la dottoressa Germana Gallo che dirige il centro, la direttrice sanitaria e oggi il tema che ho scelto, speriamo che lei lo accetti, è quello della fiducia paziente-medico, quanto è importante e soprattutto quanto deve essere a doppio senso? Il rapporto di fiducia medico-paziente è fondamentale, fondamentale soprattutto per il paziente, un paziente che ha fiducia nel proprio sanitario è un paziente che aderisce alla terapia, quindi è un paziente che prenderà i farmaci, le pillole, così come gliel'ha prescritto il medico, in quell'orario, in quei giorni. E' importante e questo mi riguarda direttamente anche per il sanitario perché la fiducia del paziente è quello che poi ci nutre, che ti conferma volta per volta, visita per visita, che hai scelto la professione giusta, quella che ti dà l'energia, nel mio caso, ad alzarti la mattina alle 4 e mezza per andare a lavorare e non vedi l'ora di essere sul posto di lavoro, non vedi l'ora di interagire con i pazienti. Quando viene meno questa fiducia? Non deve essere necessariamente tradita la fiducia, sono rari i casi in cui il paziente toglie la fiducia al medico, i casi più comuni è quando non si crea questo rapporto di fiducia, questo può dipendere dal sanitario, Noi già abbiamo fatto e spedito insieme il discorso di quanto sia importante l'empatia, in tutti i campi è importante l'empatia, in particolar modo nel campo sanitario. Già l'ho detto altre volte, noi lavoriamo con materiale umano, proprio perché io mi faccio carico della fiducia e della salute, essendo io un medico di una persona, io me ne devo fare carica a 360 gradi, là dove manca l'empatia, là per un fatto caratteriale, poi stiamo parlando in generale, diciamo un medico che non attira il paziente, ma può essere anche un medico bravissimo, ma tra virgolette reticente, per esempio in 28 anni di professione io mi rendo conto che l'aderenza migliore alla terapia io l'ho nel momento in cui riesco a spiegare nei minimi termini la patologia al paziente. Detta così può sembrare una cosa difficilissima, ma non è tale, un paziente con una calcolosi renale in corso di colica renale, io con i disegnini gli disegno i reni, gli disegno la pelvi renale, gli spiego che la pelvi renale è una sorta di anticamera dove si concentra l'urina, che dalla pelvi renale partono due ureteri, che sono due tubicini piccini che attraversano tutto l'addome, e quindi gli spiego perché ha il dolore addominale, essendo però una colica renale, quindi ha il dolore al fianco, lì dove si trova il rene, però si dirige verso il basso, quindi verso il pub perché segue il decorso degli ureteri, gli spieghi che il calcolino si può incuneare nell'uretere, quindi lui ha questo senso di sensione perché si accumula l'urina, come per esempio per il reflusso gastroesofageo, spiega al paziente che c'è una valvolina che divide lo stomaco dall'esofago, se questa valvolina è incontinente, cioè sfiata, parte dell'acido cloridico può bruciare l'esofago, quando tu spieghi queste cose al paziente, e spieghi il meccanismo d'azione del farmaco che può far scomparire il sintomo, non solo il sintomo, ma anche la malattia, l'aderenza alla terapia è del 100%, anche questo favorisce il rapporto di fiducia medico-paziente. E quindi responsabilizzare il paziente è una buona cosa, ma quando il paziente è un po' troppo intraprendente, che quasi viene e dice datemi questa cura, ho visto su internet, oppure me l'ha raccontato un mio amico, come si fa in quel caso? Si fa, gli spieghi la patologia, spieghi che tutto quello che troviamo su internet non è certificato, cioè un qualsiasi folle può scrivere cose su internet, a meno che non ti veda a leggere abstract di congressi, ma è quello che facciamo noi medici, se non hai un filtro, quello che ti arriva da internet veramente è la qualunque, e può avere una doppia accezione, ti può rassicurare laddove invece dovresti preoccuparti, ti può preoccupare laddove non ti devi preoccupare. In quello poi fa la differenza il carisma del medico che è capace di spiegarti quali sono i pro e i contro di internet, della cognata, del vicino di casa, della trasmissione televisiva, e si riesce a sostituire a questi altri interlocutori e quindi ti segue direttamente il paziente. C'è poi il paziente sfiduciato che dice, dottoressa, no, non guarisco quello che mi ha dato, non fa effetto su di me. Allora, ci sono patologie, tu questo lo dici a priori, mi viene in mente per esempio l'ipertensione arteriosa, l'ipertensione arteriosa è un aumento della pressione del sangue, non è detto che alla prima pillola il paziente arrivi a target, tu però questo lo dici prima, non è che dici vi darò questa pillola fra tre giorni e non tenete più la pressione, no, anzi, io faccio una premessa, dico per due o tre settimane avremo dei contatti, do a tutti, a prescindere il mio cellulare, hanno accesso libero i pazienti, quindi vi misurate la pressione a casa e mi chiamate, viceversa venite domani, dopo domani, tre volte a settimana e vi controllo la pressione, perché se tu anticipi la prospettiva che comunque prima di trovare una terapia c'è una latenza, il paziente non appare sfiduciato. Il paziente è bugiardo, come lo snida, quello che giura che ha preso tutto, gli orari che lei ha detto, in realtà no e per questo la cura non sta facendo effetto. Per esempio mi viene in mente, io come ho detto altre volte, sono una figura sanitaria che tra le altre cose spiego, cioè do delle spiegazioni su ecografie, su analisi del sangue, vedo moltissime ecaddominali e nell'ecoaddominali c'è un'alta percentuale di fango biliare, il fango biliare che cosa è? È la bile che è diventata un po' più spessa, devi fare una terapia per evitare che questa bile spessa si trasformi in calcolosi, quindi in calcoli e poi quella è una terapia di tipo chirurgico. Dai la terapia al paziente, che poi consiste in acidi biliari, e nel giro di 4-6 mesi a controllo il paziente ti torna senza fango biliare, se ha fatto la terapia, ma soprattutto se l'ha fatta a quegli orari, in quelle modalità particolari. Là dove trovi ancora il fango biliare non avete fatto la terapia, e il paziente in genere confessa. La dottoressa Gallo, è un piacere ascoltarla, ha un sorriso veramente rassicurante, ma noi ci fidiamo soprattutto di ciò che lei rappresenta, un bravissimo medico dalla parte dei pazienti. Adesso io ho terminato qui, non finisce mattina 9, ci sono adesso delle informazioni di carattere pubblicitario da seguire con attenzione, anche da lì arrivano tanti spunti. A presto. Grazie. Grazie. Grazie.